Allora, abbiamo iniziato a gestire il DUSAF, nei precedenti tutorial abbiamo visto come creare una simbologia di questo tipo che mi permette di avere, apriamo la tabella così è meglio capirla da questo codice identifica, tiro fuori il primo livello, quindi tutti i primi U, i primi numeri 1 il secondo livello per prendere la parte del codice, la prima e due cifre della parte del codice perché solo con la prima parte del codice, quindi livello A, abbiamo organizzato i seminativi e le aree boscate mentre per l'1 che era le aree urbanizzate abbiamo voluto avere una classificazione molto più dettagliata quindi siamo scesi a livello B adesso dobbiamo creare una tabella che mi permette di avere una decodifica di questi codici nel caso in cui l'area è molto vasta e questi codici sono molti di più per creare una tabella di join da questi risultati la procedura che al momento vi consiglio senza usare postgis o altri programmi è creare un dissolve di pgdus corbetta B su live B questo lo chiamiamo tb perché a noi ci servirà solo la tabella tb dusaf 4 corbetta live B ok, l'ha creato è questo a noi ci serve solo il dbf che è la tabella ecco, però noi abbiamo questa tabella e ci dice che gli 1 1 sono residenza residenza gli 1 3 sono dei cantieri erano anche delle aree degradate quindi aree trasformazione qua l'1 2 insediamenti industriali e artigianali ma mi ricordo che avevamo anche le infrastrutture quindi l'1 2 e sia insediamenti industriali sia ok, reti ferroviarie quindi industria e reti e il 3 è sia impianti sportivi sia parchi e giardini quindi aree verdi abbiamo questa decodifica quello che ci interessa deco B le colonne che ci interessano per fare join sono solo le ultime due proviamo a salvare salva con nome questo file lo chiamiamo ok estensione non corrisponde posso usare comunque questo nome no perchè qua deve essere dbf non mi salva in dbf proviamo a salvarlo in excel a vedere se QGIS legge i file excel non mi sembra però ci proviamo lo stesso data ultima modifica del desktop proviamo a aprire open ok ci sta leggendo i file excel solo che senza alcun risultato all'interno proviamo a riaprirlo lo sportiamo come salva come imposta invia si questo questo calc non da molto spazio proviamo a salvarlo in ods che open document format ok salva questo dovrebbe leggerlo tranquillamente aggiungi vettore browse ods open perfetto l'ods è un formato riconosciuto si ci ha ci ha portato dentro anche la prima colonna ma non ci interessa andiamo su questo shape quindi livello b il nostro obiettivo è dare un valore a questi quattro codici quindi proprietà join aggiungi un join con questa tabella field1 con il codice praticamente field1 era non si apre field1 era la decodifica mentre nel nostro target in pg use of corbeta live b è live b il codice ok se adesso andiamo ad aprire la tabella troviamo che è stato effettuato questo join noi possiamo andare nello stile e adesso invece di avere questo live b possiamo avere direttamente le categorie che abbiamo trovato si ci aveva portato dentro anche il nome della colonna quindi aree di trasformazione le facciamo rosse le aree verdi le facciamo verdi le aree industriali le facciamo viola e la residenza la facciamo grigia perfetto proviamo a salvare ok mettiamo invece noi che partiamo dal file di partenza vogliamo tirare fuori ad esempio le aree di trasformazione le aree di trasformazione da vogliamo tirare fuori le aree di trasformazione direttamente da qua e gli dobbiamo dire ok prendici esattamente questo codice perchè adesso possiamo vedere di utilizzare la colorazione in base alla categoria ma lo vediamo nel prossimo tutorial e